Cristiana Folin per Vercelli Web TV, oggi al Museo Leone per il lancio del convegno che si terrà venerdì prossimo nel rettorato dell'Università del Piemonte Orientale riguardante il 1914 Europa in guerra e Italia fuori, vigilia del grande incendio. Siamo con il Presidente del Museo Leone, Mentigazzi, e con la Presidente dell'Associazione Legrange, Magda Valboni, che hanno collaborato alla stesura del progetto, allo sviluppo del progetto e ci racconteranno cosa li ha portati, di che cosa si tratterà. Dunque, l'idea di questo progetto è naturalmente nata in sintonia con tutte le istituzioni e tutte le associazioni della città e alcune del territorio, che però hanno previsto di iniziare a partire dal 1915, poiché questa è effettivamente la data dell'entrata in guerra dell'Italia. A noi è sembrato importante organizzare anche un evento per l'anno precedente, perché l'anno precedente è in realtà, intanto, 2014, l'Europa già sta comunque commemorando questo evento, poiché è il secolo di inizio e di scoppio effettivo della guerra, però l'Italia ovviamente era stata chiamata ad entrare in guerra, non era totalmente isolata e fuori, ci è sembrato davvero molto importante ricordarla e puntualizzarla in qualche modo, pur partendo da un intervento di carattere generale che vuole appunto situare l'Italia all'interno di una situazione europea. Abbiamo visto in conferenza stampa la discussione tra interventisti e neutralisti e gli interventi che ci saranno riguardanti proprio il territorio. Ma direi che lo scopo ultimo è quello anche di tante altre nostre iniziative, nostra e dell'Associazione delle Grange, il recupero memoriale, perché, dicevo in conferenza, una società senza memoria è una società che non sa neanche analizzare il presente e ipotizzare il futuro. Quindi un recupero memoriale sicuramente importante, così come sono importanti, secondo me, significativi, al di là dei due primi interventi di carattere generale, quelli riguardanti la situazione locale, due aspetti relativamente poco studiati. Uno, direi assolutamente non studiato, che è quello dell'uso nazionalistico dello sport e l'altro quello del dibattito neutralisti-interventisti a Vercelli. Vogliamo ricordare quando sarà l'evento e dove? L'evento è venerdì prossimo nel Salone del Rettorato dell'Università, qui in Via Duomo. Le università coinvolte sono ovviamente la nostra Università del Piemonte Orientale e il secondo relatore che è dell'Università Cattolica di Milano. Allora, ringraziamo il dottor Mentigazzi, la dottoressa Balboni e noi ci vediamo alla prossima da Vercelli Web TV. A Cristiana Folini è tutto, arrivederci. Grazie a tutti.